Rosario Guglielmino ha vinto ai punti la semifinale per il titolo italiano dei pesi massimi leggeri contro il triestino Fabrizio Leone, disputata sulla distanza dei sei round. L'incontro tra Guglielmino e Leone era il match di punta del primo trofeo nazionale di Pugilato, Giarre in ring, disputatosi in Piazza Carmine lo scorso sabato sera. Un evento che ha riscontrato un grande successo di pubblico attirando più di mille persone ad assistere a un programma che prevedeva anche un quadrangolare per dilettanti nazionali elite che ha coinvolto i atleti di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Grande soddisfazione sia per l'associazione turistica Prologo Giarre che per l'accademia pugilistica Giarre Box, organizzatori dell'evento. Erano anni che la cittadina ionica non ospitava incontri di questo livello e visto l'interesse riscontrato dal pubblico, iniziative del genere potranno essere replicate con la certezza di trovare il giusto riscontro da parte degli appassionati e sportivi gerresi.